Qual è stata la sua sensazione quando è entrata in questo Salone delle Regife di fronte a queste più di 800 superiori generali? La mia impressione, la mia sensazione, l'ho detto all'inizio dell'Eucaristia, che nella Chiesa, la vita religiosa femminile in concreto, è molto viva ancora. Quindi per me è stato un momento di gioia quello che ho vissuto questo pomeriggio, perché forse è la prima volta che io vedo tante religiose insieme, poi un'assemblea qualificata, pluriculturale si vede subito, e certamente anche pluricarismatica. Quindi è una manifestazione della ricchezza, non soltanto della vita consacrata, ma della vita consacrata nella Chiesa, e quindi una ricchezza della Chiesa. Lei sta iniziando un nuovo servizio veramente importante in questo senso. Si è dato un primo obiettivo. Guardi, prima di tutto il mio obiettivo fondamentale è quello di collaborare e di aiutare in quello che mi venga chiesto, sia al Santo Padre, che alla fine io sono stato messo come segretario nominato da lui e quindi la mia disponibilità per quello che il Santo Padre mi chieda come segretario della congregazione e qualunque altro servizio è totale. Non dimentichiamo che i figli di Francesco abbiamo promesso ubbidienza e riverenza al Signor Papa, quindi per me è una gioia poter collaborare col Papa Francesco, ma poi anche col prefetto, il Cardinale Gioao, una persona che io conosco da qualche tempo e che devo dire che è una persona molto cordiale, molto fraterna, una parola che lui ripete spesso e che tenta di viverla è la parola comunione e questo per me è qualcosa di meraviglioso. Poi, ecco, aiutare e servire la vita consacrata nella Chiesa. Io fino adesso animavo, aiutavo ed ero accanto ai frati minori e anche in un certo senso alla famiglia francescana. Oggi il Signore mi ha messo per aiutare la vita consacrata e questo sarà la mia, diciamo, il mio primo oggettivo. Vorrei dire che a me piacerebbe che la congregazione di vita consacrata non si vedesse soltanto come una stazione di vigile del fuoco, mi spiego, che sta per spegnere i fuochi qua e là. No, questo non è la vita consacrata. Certamente la vita consacrata ha problemi, ma la vita consacrata è vita, quindi la congregazione sta anche per promuovere la vita e passare, come direbbe Santa Chiara, dal bene al meglio, da virtù in virtù. Quindi io credo che quello che si aspetta di noi in questo momento è proprio di promuovere la vita dove già c'è vita. Per lei, figlio di Francesco, essere chiamato da un Papa che ha scelto il nome di Francesco, ha un senso particolare. Per me devo dire che quando in Piazza San Pietro ho sentito che aveva scelto il nome di Francesco, io veramente mi sono commosso, commosso e subito pensato, questo non è un nome per prenderlo soltanto così, perché mai era stato preso, perché Francesco continua ad essere il santo di tutti, sia cattolici che non cattolici, ma per me è un programma di vita. E chi conosce il Papa Francesco sa che questo è così. Io lo conosco dal 2004 e l'allora Presidente della Conferenza Episcopale d'Argentina è venuto a trovarmi in Curia Generalizia. Abbiamo dialogato a lungo e poi l'ho conosciuto a Parecida in Brasile. Durante un mese quasi abbiamo condiviso le riflessioni nella Quinta Assemblea dei Vescovi di America Latina alla quale io partecipavo per nomina del Papa. Poi abbiamo condiviso anche i lavori in alcune assemblee sinodali. E sempre ho avuto la stessa impressione di trovarmi di fronte a un maestro, perché è un uomo di molta esperienza, lui è un grande pastore, poi di trovarmi di fronte a un fratello, a un amico e quasi direi un compagno. E nell'udienza che ha avuto a bene concedermi subito dopo la mia nomina, dove abbiamo dialogato a lungo, io ho reaffermato questa convinzione. Questo Papa che ci invita ad aprirsi alle sorprese di Dio, ci può dare, ci darà alcune sorprese. Il Cardinale, che appunto ci ha lasciato l'intervista due giorni fa, che presiede il suo di Castero, ci diceva della grande importanza dell'ascolto per quanto riguarda il discorso della vita consacrata. Lei si sta preparando a esercitarsi e pensa anche lei che ascoltare sarà una grande sfida nel suo servizio. Senza d'altro. Io credo che qualunque servizio di autorità nella Chiesa incomincia dall'ascolto. Quindi questo servizio che mi è stato chiesto comporta molto ascolto. Devo dire che il Santo Padre, nell'udienza privata che mi ha concesso dopo la mia nomina, parlando ecco della vita consacrata, insisteva in due parole. La preghiera e il dialogo. E il dialogo non è possibile senza l'ascolto, senza lasciarsi attraversare dalla parola dell'altro, proprio etimologicamente dialogo, significa questo, lasciarsi attraversare dalla parola dell'altro. E questo, ripeto, esige dialogo, ascolto, rispetto, silenzio e contemplazione. In questi giorni le superiori generali hanno riflettuto sul concetto di leadership, di autorità. donne che devono esercitare nelle loro famiglie religiose, insomma, questo ruolo. Su questo lei che riflessione ci può dare? Prima di tutto faccio una confessione. A me non mi piace molto la parola leadership per l'autorità nella Chiesa. Io credo che leader uno nasce, invece l'autorità uno la riceve. Quindi non tutti quelli che esercitano l'autorità sono naturalmente leader. Quindi io preferirei sempre utilizzare il termine servizio di autorità. E con questa parola che precede autorità, già ci dà la chiave come deve essere esercitata. San Francesco, devo tornare necessariamente a San Francesco, e una delle sue munizioni ci dice che l'autorità deve essere esercitata come se lavassimo i piedi ai fratelli. Quindi il servizio diaconale è di servo. Sono due parole che appaiono nel Nuovo Testamento, indicando proprio questo servizio. Servo, cioè minore tra i minori, diremmo noi francescani. E poi, ecco, umile, disponibile. Vedendo questa assemblea di più di 800 donne, viene istintiva la domanda del ruolo delle donne nella Chiesa, nella Chiesa di oggi e nella Chiesa del futuro. Lei su questo cosa pensa? Io credo che la donna, l'ho detto anche nell'omilia, ha giocato un ruolo fondamentale nella primissima evangelizzazione. Loro sono stati i primi testimoni della risurrezione del Signore. E lungo la storia della Chiesa questo si ripete. Quindi, evangelizzazione e donna vanno dalla mano. Non che si escludano gli uomini. No, assolutamente. Però vanno dalla mano. Molti di noi abbiamo ricevuto la fede, i primi germi di fede, dalle nostre mamme. Quindi la donna gioca un ruolo importantissimo nella trasmissione della fede. E poi, nell'evangelizzazione, come ho detto anche nell'omilia, dovunque sono andato e ho girato il mondo tre volte come Ministro Generale, ho trovato sempre delle donne consacrate. Quindi il ruolo della donna è fondamentale. Questo non vuol dire, a mio parere, che uomini e donne devono esercitare gli stessi ministeri. L'uguaglianza non sta nel fare lo stesso o di esercitare gli stessi ministeri. In questo senso la Chiesa ha ricevuto una tradizione con maggiuscola, alla quale anche deve essere fedele. Ma questo non diminuisce per niente il ruolo importantissimo della donna nella Chiesa. Alla luce di tutto quello che ha detto, si è rivolto direttamente alla platea in molti modi, ma le chiedo ancora dovesse sunteggiare quello che ne sta più a cuore. Per me, nella vita religiosa consacrata maschile e femminile, un tema fondamentale è l'identità. Rimaniamo consacrati. E la nostra vita non si misura tanto per quello che facciamo, ma per quello che siamo veramente. Naturalmente l'essere non si può separare del fare per i suoi frutti. Conoscerete l'albero, dice Gesù nel Vangelo. Quindi il nostro fare manifesta quello che siamo, però l'accento è nell'essere. E rimanere fedele alla nostra identità di consacrati. E io direi che una delle missioni, forse, senza forse, la più importante della vita consacrata è essere testimoni della trascendenza. E per questo noi consacrati abbiamo bisogno di rimanere fedeli al primo amore, che è Cristo. Di essere testimoni di Cristo. Chi insegna? Insegnando. Chi cura i malati? Curando i malati. Ma sempre testimoni di Cristo. Noi non siamo una ONG, come già ha detto il Papa Francesco. Noi siamo testimoni di Cristo. Quindi quelle tre parole che lui ha usato nell'omilia, nella Cappella Sistina, il giorno dopo la sua elezione, mi sembra che è un programma di vita meraviglioso per la vita consacrata, religiosa, sia maschile che femminile. E queste tre parole, camminare, la vita religiosa deve camminare, tenendo conto anche dei segni dei tempi e dei luoghi ai quali deve dare una risposta evangelica, come l'hanno dato i nostri fondatori, edificare sulla rocca che è Cristo, la roccia che è Cristo, e testimoniare. Testimoniare Gesù Cristo crocifisso. Questo il Papa ha insistito.